Io ho conosciuto Silvano Romani quando era più giovane, diciamo bottegaio, forse questo può essere riduttivo per lui ma voglio ricordarlo per quello perché le sue sono delle botteghe di qualità. Forse abbiamo qualcosa in comune, noi siamo sempre copiati. Mio padre diceva che c'erano i gran e i galantoni, lui è un galantuomo come penso di essere io. Noi ci guardiamo negli occhi, quando ci sentiamo in due minuti risolviamo tutto e siamo convinti che la qualità del cliente venga di conseguenza alla qualità del prodotto. Noi scegliamo le cose più buone e le diamo a lui. Quando ci sono dei prodotti nuovi è lui che ci fa il test con i suoi clienti e quindi in ogni rapporto c'è sempre questo sistema importante di persone per bene.